Musica Benvenuti su Hermes Channel del TV Il sai che di oggi è storia di Castellana Grotte Vediamoci il video Sabato 14 settembre 1968 Alle ore 21 si aprì improvvisamente una grossa voragine Probabilmente causato da un fiume sotterraneo Il largo Portagrande, vicino al bar Caffè dell'Olmo Ricordo che si parlava di un'auto in sosta vicino al bar Ringhiottita ma più riprovata Il filmato è stato registrato la domenica mattina Del 15 settembre Da mio padre Angelo Cazzolla Dove si vede la voragine nella sua grandezza e profondità Preventivamente fu fatta evacuare la zona in pericolo della voragine Mentre sempre di domenica nel pomeriggio Vengono fatte cadere con dei cavi d'acciaio Le facciate pericolanti delle case adiacente alla voragine Riempendola così di macerie Una parte di storia di Castellana Grotta Riempendola così di macerie